L'italianità finalmente sparca le Maldive. Vive in una location da sogno, spero soltanto di poter visitare presto. Andate al Baglioni, è il meglio che c'è. Mi sembra già un paradiso terrestre, non vedo l'ora di partire. Il perfetto fit dei concept tra il nostro brand è il Baglioni Hotel. Spero di assolutamente portarci sia i miei amici e perché no anche le persone con le quali lavoro. È un posto in cui bisogna assolutamente andare. È stata una vacanza unica. Grazie. 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 Grazie.